ciao a tutti e ben ritrovati oggi sono qui per presentarvi un dispositivo wash and cure è un prodotto della gtec e questo è il modello gc w 02 innanzitutto cos'è un dispositivo wash and cure un dispositivo wash and cure è uno strumento che ci permette di lavorare il pezzo stampato in resina molto facilmente questo perché ha due processi in uno con questo dispositivo potremmo sia lavare il pezzo con acqua se è stato creato con una resina lavabile in acqua oppure con alcol se è stata usata una resina normale una volta lavato il pezzo con una centrifuga verrà sostituito il vassoio dell'acqua o dell'alcol con un disco rotante il pezzo stampato verrà messo nel disco rotante che girando verrà metterà in luce il pezzo davanti ai led uv quindi il pezzo si solidificherà bene cominciamo con il primo passo cioè lavare il pezzo stampato in resina possiamo posizionare la vasca d'acqua in questo caso perché io ho stampato il mio modello con una resina lavabile in acqua e ho riempito con un po d'acqua il cestello ovviamente potete riempirlo quanto volete in base anche alla grandezza del del pezzo che avete stampato questo è un cestello dove metteremo appunto la stampa qui c'è un un gancio in modo che possiate appoggiarlo nel cestello come vedete il pezzo è pronto per essere lavato bene siamo pronti per il primo passaggio ossia lavare il pezzo stampato in resina le operazioni da svolgere sono molto semplici vediamo il nome la marca del prodotto gtec e poi un simbolo che è il simbolo del del coperchio in questo modo è normale se noi solleviamo il coperchio compagni da una x questo vuol dire che il coperchio non è posizionato correttamente oppure non c'è proprio se noi solleviamo il coperchio durante la centrifuga o la cura per i raggi uvi il dispositivo si fermerà per sicurezza andiamo a vedere le altre icone c'è un icona uvi lampeggiante con una lampada questo indica che è in modalità raggi uvi mentre se premiamo il pulsante mode andrà in un simbolo che ci fa capire che farà ruotare il pezzo insomma diciamo che l'immagine un po fuorviante però questo serve per la centrifuga bene adesso scegliamo il tempo mettiamo quattro minuti e premiamo il pulsante perfetto la prima fase è ultimata ora possiamo togliere il coperchio togliere il cestello e posizionare il disco in plexiglass anche questo ha dei magneti automaticamente si posizionerà 5 minuti ricordatevi di cambiare la modalità in raggi uvi bene siamo giunti al termine dopo il fissaggio con le luci uvi il nostro pezzo è pronto per essere poi pitturato quindi post prodotto in conclusione perché acquistare questo dispositivo semplicemente perché ci semplifica la vita quindi con un solo prodotto possiamo sia lavare il pezzo con acqua o con alcol dipende dalla resina che avete utilizzato sia fissare diciamo la resina grazie alle luci uvi presenti nel dispositivo quindi è un prodotto molto molto comodo per oggi è tutto vi ringrazio di aver visto questa breve recensione se avete qualche dubbio vi invito a scrivere nei commenti le vostre perplessità o le vostre domande vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati sui miei contenuti per ora non mi resta che salutarvi e alla prossima ciao a tutti